Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Euromedia Research. La coalizione di governo è al 44,7%, poco sotto il 45%, mentre vediamo che Fratelli d'Italia è al 28,5%, il Partito Democratico è al 19,2%, il Movimento 5 Stelle al 16,9%. Vediamo poi che Calenda è al 3,5% e Italia Viva di Renzi al 2,8%. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.